il contachilometri vediamo quanto facciamo se 20 o 25 si tanto più di 25 un po' Buon appetito! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Scusami È ancora dritta? Perché ho preso una pianta? Eh? È ancora dritta? Ho preso una pianta a manetta No, sta mutando il cielo Eh, ma l'ho presa tipo all'inizio Ah, ok Infatti io oggi le GoPro sopra per quello Perché vedi, fermi le cose Oh, yeah Mi ha sprollato anche gli occhiali la pianta Tu hai preso una pianta e io qua Questa cazzo ho fatto qua? Prima volta che ci vado più di dritto Allora, mi succede a me con la frona Dopo lo tagli, lo sistemi, l'hai messa a posto? Ah, però tanto... No, ma tanto non ti ho preso mai Perché si è girata subito Non ti ho preso un rock Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.